Grazie signor Presidente. Io mi rivolgo al Commissario Avramopoulos. Commissario, le chiedo, ma lei se viene qua e io ho contatto che ha toccato il telefono e se l'hai guardato almeno una trentina di volte, o il suo iPad, ma gliene frega qualcosa di quello che si dice in quest'aula o si fa i cavoli suoi e viene solo qui a fare presenza? Perché se qui parliamo solo per giocare, allora è inutile che viene oppure prende una brandina, si mette lì dietro, dorme, e poi quando ha finito dice il suo messaggio che si è già scritto ed è finito tutto. Qua lo vogliamo capire che è pieno di gente che viene e che non ha diritto di venire in Europa? Invece di girare l'Europa e andare nei campi profughi o andare a Catania a fare il bello in Sicilia per dire che tutto va bene, che i siciliani sono bravi e che gli italiani sono tutti contenti? Falso, falso e falso. Noi non vogliamo i presunti profughi perché non sono profughi, sono il 5% e scappa dalla guerra. Tutti gli altri vengono in Italia solo a farsi mantenere e gli italiani sono stufi di questa situazione. La stessa cosa vale per la Grecia e il resto d'Europa cosa fa? Vieni qua a fare i pianistei e poi intanto non cambia niente. Grazie commissario. Grazie a tutti.